Mi chiamo Alex Pellegrino, il mio lavoro si svolge principalmente sulla lavorazione artistica dei metalli. Forse è una cosa difficile da spiegare perché è il legame che c'è tra l'uomo e gli elementi naturali, il fuoco in questo caso, perché è grazie al fuoco che riesce a modellare questo materiale che diversamente non può essere modificato nella sua forma. Passione che ti porta anche a disegnarlo, a crearlo secondo le tue idee, secondo il tragitto che vuoi far fare a questo materiale per poi realizzare un'opera. Questo lavoro la motivazione se l'è presa penso da solo perché è una cosa che ti nasce da dentro, è una cosa molto personale. Io sono Alex Pellegrino e io sono Terra dei Pensavi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.